e a quest'ora Radio Vaticana con voi va anche in video attraverso la piattaforma Facebook oggi parliamo di sport ma innanzitutto ringraziamo la nostra regina oltre a Bruno Orti e Gianmarco Murroni, Patrizio Ciprari, Alberto Giovannetti e Vittorio Rossi che ci consentono di andare oltre che in audio anche in video. Dicevo parliamo di sport perché abbiamo ospiti, stanno arrivando alla spicciolata devo dire perché come una gara che si rispetti sportiva, come qualsiasi gara che si rispetti sportiva non si arriva tutti insieme, chi arriva prima e chi arriva dopo, sono arrivati prima i giovani Alessio Franchina responsabile comunicazione e innovazione tecnologica del centro sportivo italiano CSI, benvenuto Alessio. Grazie Giancarlo, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora in attesa nell'emore dell'arrivo del presidente del centro sportivo italiano, chi per lui, io voglio chiederti io ho intitolato questo spazio anche lo sport si prepara al giubileo 2025 e il centro sportivo dedica sin da, mi ricordo, dal giubileo del 2000 una preparazione particolare a questo evento. Esatto, stiamo un po' lavorando un po' nelle varie diocesi, nei vari oratori, nelle varie parrocchie con delle iniziative, dei tornei e anche un po' dei convegni che stiamo un po' preparando sul territorio proprio per prepararci un po' all'arrivo di quello quello che sarà il 14-15 giugno 2025 il giubileo degli sportivi. In cui ci sarà l'incontro con Papa Francesco come avviene in ogni giubileo, ogni giornata dell'anno è dedicata ad una professione, ad un gruppo di persone e in particolare, ecco come tu hai detto, quelle due giornate sono dedicate allo sport, ma l'attività è importante perché il CSI è capillarmente diffuso in Italia non solo e quindi siete un po' come i carabinieri, avete una stazione in ogni paesino, vi collegate chiaramente alle realtà parrocchiali e avete quindi il polso del territorio praticamente. Esatto sì, l'idea è proprio quella appunto di 1.400.000 tesserati, i 600, quello che piace spesso sottolineare al nostro presidente Bosio, più del 50% di questi tesserati sono under 16, quindi c'è tantissima attività giovanile e tanta di questa attività è legata appunto alle parrocchie e facciamo tante iniziative, una di queste per esempio è proprio la Junior Team Cup che stiamo facendo in queste settimane. Ecco di che si tratta? Junior Team Cup è un torneo di calcio a sette per ragazzi e under 14, ragazzi e ragazze under 14, che viene giocato nelle città dove c'è il campionato di Serie A. I partner infatti sono il Centro Sportivo Italiano, la Serie A e la Team, sponsor appunto della Lega Serie A del campionato di calcio. Questi tornei vengono svolti negli oratori, siamo arrivati alla undicesima edizione e abbiamo coinvolto 90.000 giovani di 6.650 oratori in questi 11 anni, quindi dei numeri molto importanti. La finale di questo torneo che viene svolto appunto nei vari oratori sarà proprio qui a Roma allo Stadio Olimpico prima della finale di Coppa Italia del 14 maggio. Con un biglietto unico potremmo vedere due partite praticamente. Esattamente. Alessio Franchina, tutto questo avviene all'insegna del fatto che lo sport non è qualcosa che va fatto per diventare campioni a tutti i costi, questo è un po' anche lo spirito del CSI, se poi lo si diventa per carità ben venga, tanti campioni che sono passati attraverso la vostra associazione, ma per un benessere mentale, spirituale e fisico. Assolutamente sì, al nostro presidente piace molto sottolineare due parole. Prima la parola chiaramente accoglienza, l'obiettivo del CSI e quindi delle società sportive, del centro sportivo italiano, proprio quello di accogliere tutti. Quindi non solo i campioni, io che bravo in quella disciplina sportiva, proprio dare la possibilità a tutti di fare sport dentro un contesto comunque sicuro, un contesto molto spesso legato a parrocchie e oratori. Quindi questo è un po' l'obiettivo. E l'altra battuta che spesso fa il nostro presidente è dare la possibilità di giocare a chi è capace solo di fare barriera. Quindi magari nel calcio l'immagine rende un po' l'idea di quello che è l'obiettivo del CSI. Ecco, è in corso quello che abbiamo sempre definito un dialogo tra lo sport delle grandi platee, quindi professionisti, campioni e lo sport di base. C'è questo travaso tra l'uno e l'altro? Assolutamente sì. Ci sono state delle difficoltà in passato. Non possiamo negarlo. No, no, è vero, non possiamo negarlo. È sempre di più e penso di poter dire mai come quest'anno ci sono davvero una sinergia tra lo sport di vertice e lo sport di base. La Junior Team Cup è uno di questi anche perché legato al torneo sportivo ci sono anche tantissime iniziative che stiamo portando avanti legate alla campagna Key Prices Mouth, quindi alla lotta contro il razzismo e le discriminazioni con tutti i club di Serie A e con i nostri oratori. Pensiamo per esempio questa settimana due oratori di Milano sono andati al Memorial della Shoah insieme all'Inter, insieme a Javier Zanetti e qui a Roma invece abbiamo fatto un incontro insieme all'S Roma e all'SS Lazio, proprio alla presidenza del Consiglio dei Ministri a UNAR, l'Ufficio Nazionale contro le discriminazioni razziali. Abbiamo fatto un incontro proprio per sottolineare alcune tematiche educative per fare degli incontri anche di valore per i ragazzi, quindi non solo torneo sportivo ma anche attività educative. Siccome Radio Vaticana con voi è una trasmissione che vuole dialogare con chi ci ascolta, sia per chi ci sta anche vedendo su Facebook ma chi ci ascolta soltanto attraverso la radio e quindi attraverso, dialoga con noi attraverso il 335 12 437 22, volevo chiedere ai nostri ascoltatori, attraverso il CSI del vostro paese, della vostra regione, siete riusciti a fare sport? Vi è stato di aiuto la presenza del centro sportivo italiano nella vostra realtà sociale? Per esempio a me, tornando indietro di parecchi anni, il primo campionato che io feci era un campionato del CSI con gli arbitri in giacchetta nera e calzettoni neri con risvolto blu all'epoca, insomma, ora gli arbitri sono molto colorati, no? Sì, sì, gli arbitri sono molto colorati però sono sempre quelli. Una volta insomma le giacchette nere era un modo di dire proverbiale per definire coloro che controllavano il gioco. Serena tra l'altro ci sta mandando un audio che la regia ora ascolta e poi eventualmente manderemo in onda. Ancora una domanda ad Alessio Franchina. In questi anni tu sei responsabile anche del settore innovazione tecnologica. In che modo il CSI sta innovando? Proprio perché cambia la comunicazione, ci sono tanti strumenti e parlare con un milione, quanti hai detto? Un milione e quattrocentomila tesserati. Questo solo in Italia? In Italia, sì, sì. Poi ci sono anche le realtà internazionali? Sì, noi siamo principalmente in Italia, quindi... Ecco, comunicare con un milione e quattrocentomila persone avete una chat enorme, un po' come la nostra con i nostri ascoltatori, ma in questo caso è il caso di dirlo, proprio una grande chat. Sì, è molto stimolante perché appunto siamo presenti su molti canali, sui canali social, siamo presenti su internet, chiaramente, tutto il mondo della comunicazione digitale e la sfida più bella è proprio cercare di parlare ai giovani, quindi di cercare di veicolare anche alcuni contenuti, contenuti importanti attraverso questi canali social per poter arrivare a quelli più giovani, anche per stimolarli magari, anche a chi non fa magari sport, di avvicinarsi, che è un po' l'obiettivo del CSI, quindi un ente di promozione sportiva, di avvicinarsi a una disciplina, la disciplina che più gli piace. Ecco, Marco ci scrive, in Extremis attraverso il CSI feci un torneo di tiro con l'arco, mi confermi? Assolutamente sì, abbiamo 129 discipline sportive, quindi ce n'è davvero per tutti. Allora, speriamo che Marco abbia vinto in quel caso, noi ecco siamo veramente ai saluti, il presidente Vittorio Bosio non ce l'ha fatto, arrivava da Milano e quindi non ce l'ha fatto a venire in studio, comunque avremo modo di sentirlo poi nella nostra trasmissione dedicata allo sport, che si chiama Non Solo Sport, e allora grazie per ora ad Alessio Franchina, responsabile comunicazione e innovazione tecnologica del Centro Sportivo Italiano, grazie per essere stato con noi e aver partecipato a questo spazio di radiovisione. Grazie Giancarlo e grazie a tutti gli ascoltatori.